in questo video parlerò della formazione musicale dei cantori nei cori polifonici e poi dei cantanti solisti la pratica del canto corale è molto diffusa non solo in ambito professionale ma anche in ambito amatoriale nonostante tutte le riserve le critiche che possono essere mosse al nostro contesto nazionale constatiamo comunque una grande attività diffusa anche al di fuori delle istituzioni professionali molte persone trovano in questa occupazione un ambiente in cui socializzare e condividere esperienze musicali arricchendo in tal modo la qualità del proprio tempo libero ciò che è importante forse non superfluo sottolineare è la affinità dell'aspetto didattico in entrambi gli ambiti in altre parole la dimensione amatoriale non deve essere vissuta come qualcosa che possa essere affrontato in modo superficiali e svalutante senza quelle caratteristiche di impegno e applicazione che danno valore ad ogni attività della nostra vita conseguenza di ciò approccio didattico dovrà essere sostanzialmente analogo in entrambi gli ambiti e finalizzato a conseguire sempre una dignità artistica dell'esecuzione anche i direttori di coro devono essere innanzitutto cantori e quindi devono essere impegnati in prima persona anche nella preparazione vocale della compagine corale fatto che poi si avvalgano di assistenti preposti allo scopo non significa che la loro personale competenza possa prescindere da questo aspetto fondamentale la natura le competenze pregresse di un cantore possono essere di tipo vario ma l'obiettivo della didattica deve essere sempre quello di sviluppare le potenzialità di ogni persona la pazienza e la fiducia sono le qualità necessarie del docente che può trasmetterle al discente in modo che possa farle proprie in particolare i problemi di intonazione sono spesso risolvibili sono avere cause tecniche oppure psicologiche che il docente deve saper cogliere per aiutare il discente ad affrontarle e superarle tutte le persone possono imparare a cantare apprendendo la giusta tecnica gli stonati veri e propri sono rari ciò che conta è una corretta didattica inoltre tutti coloro che studiano musica dovrebbero studiare canto complementare che questa disciplina è molto formativa anche per gli strumentisti la respirazione corretta è innanzitutto un beneficio per il corpo svilupparne la consapevolezza è un grande medicamento naturale come ben si sa liberare il corpo può aiutare a liberare la mente e gli ingorghi dell'inconscio allora la corretta emissione che conduce alla corretta intonazione rivela anche valenze terapeutiche la varietà e il controllo dei procedimenti respiratori implica la varietà e il controllo degli effetti vocali l'intonazione stessa ne viene implicata la correttezza dell'intonazione deriva dunque innanzitutto da una consapevolezza della fisiologia della respirazione poi viene rafforzata dall approfondimento delle competenze di ascolto ovviamente a questo punto si capisce che i veri stonati sono solo una rara eccezione e il lavoro sviluppato a partire dall'esperienza vissuta del corpo avrà rivelato importanti effetti terapeutici prima ancora che musicali impostazione corretta del cantore comprenderà dunque la postura del corpo lo studio della respirazione l'emissione la pronuncia delle vocali lo studio delle risonanze della voce la pronuncia delle consonanti la preparazione del cantore sarà poi arricchita da tutto ciò che riguarda ovviamente la competenza musicale il fraseggio le accentuazioni la relazione tra musica e parola lo studio accurato non solo della propria parte ma anche della partitura nel suo insieme ora vorrei parlare della formazione dei cantanti sollisti nell'opera e nella musica vocale da camera lo studio del canto orientato alla formazione professionale deve comprendere una accuratissima preparazione dell'orecchio musicale in modo tale che non prevalga un tecnicismo concentrato unicamente sulla correttezza dell'emissione vocale questo senso sono molto utili nel nuovo ordinamento dei conservatori i corsi di pratica del repertorio vocale ossia lettura dello spartito il nome della materia dipende da singolo conservatorio quindi pratica del repertorio vocale oppure lettura dello spartito che sono tenuti generalmente dai docenti pianisti come del resto avviene nella maggior parte delle istituzioni europee di alta formazione e come avveniva anche anticamente ricordiamo che alla fine del settecento la classe di accompagnamento nel conservatorio di parigi aveva questa funzione il cantante dovrebbe diventare molto esperto nella lettura monodica e polifonica fin dagli anni della sua formazione per questo motivo è assolutamente necessario esercitarsi nel canto a cappella senza accompagnamento che permette il migliore sviluppo di tutte le facoltà musicali dal punto di vista didattico e pedagogico gli studenti di canto dovrebbero essere abituati subito all'autonomia rispetto allo strumento accompagnatore e rispetto allo strumentista ovviamente è molto utile esercitare un pezzo di repertorio cantando senza accompagnamento e verificando la capacità di mantenimento dell'intonazione la formazione del cantante dovrebbe comprendere una esercitazione accuratissima sulle procedure del sistema tonale tra le quali la trasposizione così come sul sistema modale oltre a ciò la pratica dei linguaggi del novecento ha un grande valore non solo culturale e artistico ma anche pratico in vista di una prospettiva professionale più ricca e variegata nella prima metà del novecento una lodevolissima iniziativa dell'editore ricordi permise la pubblicazione di vocalizi composti da tutti i maggiori compositori italiani dell'epoca alfano casella castelnuovo tedesco cilea malipiero pizzetti respighi zandonai e altri ancora un repertorio estremamente formativo non solo per le difficoltà tecniche ritmiche ed intonazione richiede ma anche per la qualità artistica elevata musicisti hanno dedicato a quest'opera didattica il loro migliore ingegno e non mancano anche casi di riutilizzo di questi vocalizi nelle loro opere maggiori una analoga pubblicazione era stata realizzata anche in francia con importanti autori francesi l'importanza di questo repertorio didattico moderno ovviamente non attenua il valore dei grandi vocalizi classici gli autori prevalentemente italiani del settecento e dell'ottocento che ancora oggi costituiscono un'ottima preparazione al repertorio operistico loro coevo ricordiamo alcuni tra i maggiori autori di metodi didattici per il canto in particolare segnaliamo il torinese giuseppe concone per la cura data al registro centrale della voce e alle indicazioni di fraseggio finalizzate a precisi intenti didattici l'emissione la tenuta del fiato e rimandano allo stile vocale del primo ottocento italiano inoltre citiamo il marchigiano nicola vaccai e scrisse un metodo particolarmente efficace per l'attenzione rivolta ai problemi intonazione primi esercizi del suo metodo sono pensati per esercitare consolidare intonazione di un preciso intervallo a partire dalla seconda fino all'ottava inoltre il vaccai curò l'approccio propedeutico alle problematiche del testo poetico abbinato alla musica scegliendo allo scolo o alcune celebri riette di metastasio ciò porta il cantante principiante ad affrontare subito anche i problemi della dizione e sono strettamente correlati alla tecnica vocale anche questo testo è pensato con l'intenzione di esercitare soprattutto il centro della voce prevedendo peraltro la possibilità del trasporto tonale e un altro obiettivo didattico presente nel metodo del vaccai è lo studio degli abbellimenti delle fioriture oltre a questi due autori ce ne sono molti altri che sono tuttora studiati dai giovani studenti di canto ad esempio bordogni panovka zailer e molti altri tutti strettamente legati alla vocalità dell'opera e della musica da camera vocale dell'ottocento un altro aspetto molto importante della didattica per i cantanti è lo studio della musica vocale da camera non si deve assolutamente pensare che esso sia un repertorio meno importante di quello operistico spesso soprattutto in italia si considera l'opera lirica un genere superiore alla musica da camera invece le competenze tecniche sono analoghe qui semmai nella musica vocale da camera è richiesta una ricchezza di sfumature anche superiore in questa ricchissima sezione dell'arte compositiva la straordinaria duttilità dei grandi compositori plasma la frase musicale sul respiro dell'afflato poetico al cantante è perciò richiesta una sensibilissima ricezione delle più intime risonanze della parola e della sua traduzione musicale tanto che in molti casi legare fra loro due semplici note in una sonorità a mezze tinte mediante una vocalità contenuta e interiorizzata può costituire il più intenso accento dell'espressione artistica anche per il pianista come per il cantante di leader e romanze il culmine della tensione lirica può essere racchiuso in una singola nota in un dolce e morbido accostamento di due suoni legati magari in sonorità mezzo piano nell'epoca nostra in cui sembra si richiedano ai musicisti soprattutto velocità precisione forza brutale un suono sempre brillante e aperto possibilmente spinto oltre il fortissimo e magari aiutato dagli artifici dell'amplificazione la lezione stilistica del lead ci rimanda ad altri valori estetici ed espressivi il suono morbido il tocco legato le mezze tinte per il cantante significa dunque possedere una tecnica superiore al servizio della parola un adeguato metodo di lavoro si può articolare in alcuni punti innanzitutto un breve inquadramento storico sul musicista e sul poeta quindi un'analisi del testo letterario la traduzione ex novo dei testi in tedesco francese inglese o in altre lingue è raccomandata penetrare il significato di ogni singola parola poi seguirà il confronto con altre traduzioni già presenti e in questo modo si cerca di cogliere i singoli dettagli e il significato complessivo della poesia nel quale particolare importanza rivestono le metafore e la polissemia cioè la possibilità che una parola o una frase abbiano molteplici significati considerazioni ulteriori possono essere fatte sulla fonetica e sulla musicalità della parola segue anche uno studio attento della pronuncia per il quale raccomando l'ascolto edizioni corrette da parte di cantanti possibilmente di madrelingua un caso particolare dato anche dalla pronuncia della lingua italiana occorre considerare ad esempio la differenza fra e ed è e fra o ed o per risolvere i frequenti casi dubbi e per i quali consigliabile la consultazione anche di un buon vocabolario ai miei studenti dico sempre io per primo non sono ottimo nella pronuncia delle parole italiane perché sono di origine lombarda e la pronuncia migliore sappiamo è quella del centro italia la pronuncia toscana fiorentina oppure anche dell'umbria delle marche del lazio e quindi invece nord italia come anche nel sud molto spesso si fanno errori che riguardano appunto la corretta pronuncia delle vocali chiuse e aperte ciò non toglie che uno studio attento possa permettere di migliorare questi aspetti che sono importanti soprattutto quando ci si mette in relazione con un testo poetico storico oltre a questi aspetti che riguardano il testo poi ovviamente il cantante e il pianista devono avere una precisa conoscenza dell'analisi musicale la partitura deve essere compresa almeno a grandi linee dal punto di vista formale e in alcuni dettagli significativi di composizione in particolare per quanto riguarda l'armonia nel 1994 ottenuto alla civica scuola musicale zandonai di rovereto un corso che ebbe successo si intitolava la forma l'ide e schubert e dall'analisi di alcuni esempi del compositore tendeva ad evidenziare la ricchezza formale che possiamo riconoscere anche in una composizione musicale di breve durata il problema interpretativo particolare è dato dalla forma strofica nella quale evidentemente non possiamo limitarci ad una ripetizione meccanica della stessa scelta interpretativa al variare del testo nelle varie strofe l'analisi musicale mette in evidenza lo stile dei singoli autori oltre alle differenze determinate dall'epoca e dal contesto geografico ricordiamo che esiste anche un grande repertorio italiano sia ottocentesco che novecentesco altro aspetto di analisi molto interessante è lo studio delle varie interpretazioni musicali di uno stesso testo poetico il caso ad esempio del celebre canst du das land dal wilhelm meister di goethe il 1795 ebbe grandi realizzazioni nell'ottocento musicale Beethoven nel 1809 Schubert nel 1815 Schumann nel 1849 Liszt nel 1842 e poi rivisto nel 56 nel 60 Ugo Wolf nel 1888 oltre a molti altri anche importanti è interessante notare le differenti soluzioni formali e il differente carattere quindi la personale interpretazione da parte dei singoli compositori di questo personaggio di Mignon di Goethe che talvolta differisce dalla caratterizzazione che ne aveva dato lo stesso Goethe nel suo romanzo cioè l'interpretazione del musicista può essere anche differente rispetto a quella che ne aveva dato il poeta perché comunque ogni grande poesia ha sempre risonanze che vanno molto al di là del contesto in cui vengono scritte il cantante dovrà inoltre affrontare problemi tecnici e interpretativi nello studio dell'esecuzione musicale questi due aspetti l'aspetto tecnico e l'aspetto interpretativo sono impossibili da separare non è possibile separarli focalizzando un problema tecnico si apre la strada all'interpretazione e viceversa l'interpretazione nei suoi vari aspetti che comprendono la logica, la dinamica, le accentuazioni può dare la chiave per la soluzione del problema tecnico il fraseggio richiede al cantante innanzitutto una corretta economia del fiato per cui ogni frase deve tendere al suo punto d'appoggio d'arrivo che spesso sta nella penultima sillaba della frase nel caso termini con una parola piana oppure nell'ultima sillaba nel caso di parole tronche questo fatto non coincide necessariamente con la dinamica della frase può seguire altri criteri e altre necessità espressive ma proprio per questo è necessario che il fiato non perda il suo appoggio non solo nel punto culminante della frase che spesso ma non sempre è la nota più acuta ma anche nella conclusione della frase stessa viceversa se non si tiene conto di questo aspetto accadono alcuni inconvenienti la perdita dell'appoggio dopo il punto culminante da cui deriva la perdita di qualità dell'emissione problemi di intonazione di solito calante a volte crescente se si spinge sull'acuto o sul forte mancanza di cura nella durata del suono finale della frase un problema che spesso hanno anche i pianisti l'ultimo suono così è un peso un po' ad libitu respiri inopportuni che spezzano la frase ad esempio quando l'aggettivo precede il sostantivo cosa che avviene di norma in tedesco è molto utile oltre che stisticamente corretta la messa di voce sui suoni tenuti come si sente molto frequentemente nelle esecuzioni dei grandi cantanti di leader come ad esempio Dietrich Fischer-Diskau utile esercitazione è il parlato ritmico con parole e dinamiche cioè escludendo l'intonazione dei suoni tutto questo riguarda in particolare il cantante per il pianista poi ci sono molte ulteriori considerazioni che riguardano la didattica della collaborazione pianistica lo stacco del tempo, il fraseggio, l'equilibrio di sonorità, i respiri per i quali rimando ad un'altra lezione anche il pianista è un solista in questo repertorio alla pari del cantante si tratta di musica da camera e lui stesso il pianista deve esserne consapevole per realizzare al meglio la sua esecuzione oltre a ciò ancora dobbiamo affrontare l'ascolto critico di interpretazioni storiche raccomando molto l'ascolto critico comparato e propongo sempre un dibattito occorre sempre fare attenzione per evitare i giudizi assoluti ci sono gli specialisti nel repertorio di musica vocale da camera e poi ci sono i cantanti d'opera che lo affrontano occasionalmente questo repertorio con sorprese a volte positive, altre volte negative quest'ultimo caso dell'esperienza negativa è quando il cantante d'opera non riesce ad entrare nello spirito della musica da camera e quindi riproduce in questa lo stile e le abitudini del repertorio teatrale grazie grazie